Francesco non perdona Cecilia, l'ultimo gesto di Monte parla chiaro Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, è finita per sempre, lui ha smesso di seguirla sui social. Francesco Monte ha dalla sua parte gran parte del pubblico del Grande Fratello Vip. Quando Cecilia Rodriguez lo ha lasciato in diretta tv, i telespettatori non hanno fatto altro che prendere le difese del giovane. . Ora che l'Argentina è uscita dalla casa più spiata d'Italia, tutti erano ansiosi di capire se l'extronista di Uomini e Donne avesse intenzione di vedere o meno la sorella di Jeremias e Belen. . A quanto pare, dalla prime indiscrezioni, i due non sembrano essersi ancora incontrati e tutto per volontà del ragazzo. . In ogni caso, lei non ha mai nascosto la volontà di avere un confronto a quattro occhi con Monte. . Riguardo al futuro dell'ex coppia, le cose sembrano divenire sempre più chiare a fronte dell'ultimo gesto social di Francesco. . . Francesco Monte toglie il like a Cecilia e Jeremias, nessun ritorno di fiamma. . Francesco Monte ha infatto deciso di eliminare tutto ciò che lo legava ancora a Cecilia. . Dopo aver cancellato dal suo profilo le ultime foto dedicate alla Rodriguez, il ragazza ha deciso anche di smettere di seguirla su Instagram. . 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 In tanto, i due ex teffini, a differenza di Francesco, al momento sembrano ancora seguirlo. . Cecilia innamorata di Ignazio non pensa più o Francesco, aereo speciale. . E mentre tutti attendiamo di scoprire se ci sarà mai un confronto tra i due ex, Ignazio Moser continua a mostrarsi molto triste allinterno della casa più spiata dItalia. Per tranquillizzare le sue paure, lArgentina ha deciso di mandarle un bellissimo messaggio aereo. Non vedo l'ora di beverti. Mi manchi Nakito. Anche una volta fuori dal grande fratello Vip, la Rodriguez non ha cambiato idea e resta ferma sulla sua posizione.